Niccolò quel gol davvero cercato perché insomma ti era stato negato qualche minuto prima con il salvataggio sulla linea di ventola, gol che però rappresenta davvero un importante punto per la Fidelis. Sì sì cercato, penso un po' da tutti, negli ultimi minuti cercavamo di portarla a casa, è capitata a me un'occasione prima, ancora prima un salvataggio del portiere tra me e Scaringella e alla fine sono stato io fortunato a metterla dentro ma il risultato credo che è un gol che premia tutti. Un gol che premia tutti che significa quasi certamente i playoff conquistati. Sì sicuramente questo adesso è il nostro primo obiettivo, realisticamente guardando un po' la classifica e quindi c'è da appunto centrare il prima possibile playoff, come hai detto tu quasi sono concretizzati però andiamo avanti su questa strada fino alla fine cercando di giocare i playoff in casa, magari raggiungendo il secondo posto per avere dei risultati in più utili. Sfida importante quella di domenica prossima, Matera, una sfida anche non banale per te. Sì sì una sfida particolare, sono un ex, ho vissuto un bel anno a Matera quindi ho bellissimi ricordi però ci sarà da andare a Matera con la stessa fame che abbiamo avuto oggi per appunto allontanare il Matera comunque è una diretta concorrente perché adesso si è staccata un attimo ma è lì appena fuori dai playoff e quindi andare a fare risultato domenica vorrebbe dire essere un po' più tranquilli.